E cominciamo questa nuova settimana con un filo di speranza in più nel cuore, dopo la generosità dell'Italia, la quale da anni sta cercando di salvare tante e tante persone che vogliono fuggire da situazioni di pericolo e di guerra, finalmente anche l'Austria, la Germania si sono aperte a questo discorso e anche la Gran Bretagna sta attuando una politica di accoglienza. Non c'è da stupirsi se tutta l'Europa ex est, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, eccetera, è molto indietro, ahimè, lo stavo pensando nel momento stesso in cui cadevano i muri e l'Europa dell'est diventava Europa occidentale. Gli anni che ci hanno divisi non sono passati in vano e gli ungheresi, i polacchi, i cecoslovacchi non hanno ancora interiorizzato che facciamo parte di una squadra comune, ahimè, loro sono vittime di anni di dittature e finalmente, avendo riconquistato la possibilità della proprietà privata, la difendono al di là di ogni logica deduzione. Gli anni che non havanto il amico di corso intensità Gli anni che attenzioni zero Covidai Grazie a tutti.